La mamma di quella biba che è il secondo giorno di carica Per difendere la lotta, questo è un controsenso Da una parte creiamo e mettiamo un tumore in un corpo che è pulito, che è sano Nella selva di Chiaiano, dall'altra parte ci mettiamo l'ospedale a fianco Salve a tutti dal Movimento per la difesa del territorio Porto i saluti, il rispetto e la solidarietà che meritano tutti i cittadini in piazza Tutti i cittadini degni di questo appellativo Chi partecipa, chi lotta e chi da anni propone alternative per sempre ignorate A Terzigno ci hanno voluto regalare un bonus Rispetto all'anno scorso, raddoppia la discarica Infatti ce ne vogliono mettere Abbiamo dei problemi genetici che non abbiamo Per noi siamo una delle razze più forti del Mediterraneo Significa sicuramente che ci sono problemi ambientali Quanto meno di non corretta organizzazione sociale E' un nesso tra problemi ambientali Parliamo di scariche, di medici tossici E tumori o malattie Una vita meno lunga Il sogno del nesso tra Heaveni Per la TAO, per la CIAO, per la CIAO nel��сем Per il piotterio Melo Partigiano Un voto per la libertà Per il spellone del patigiano Un voto per la libertà Grazie a tutti. Leggi che deprimono il distenso, leggi che cercano di evitare il diritto di parola. Oggi la riprendiamo e con rabbia lo diciamo. Siamo le sede responsabili, cercando in ogni modo di far capire le istituzioni e la nuova esperienza. Non ci sono i giornali maschi, ma siamo gente che è a cuore, la propria salute. Entriamo in autunno, facciamo ancora i nostri fratelli di Londra. E noi ci saremo quando arriveranno i camion, quando arriveranno le istituzioni, quando arriverà il governo che con i loro mammarelli cercherà di passarci, di passare sui nostri corpi. E noi ci faremo trovare. Siamo qui da un mese e continueremo a starci. Siamo qui da un mese e continueremo a starci. Siamo qui da un mese e continueremo a starci. Siamo qui da un mese e continueremo a starci.